Sì, Nuzzo, Nuzzo viene dal Salento, partiamo la scorsa volta a Bologna, stavolta a Salento, per cui facciamo queste decine, centinaia di chilometri, virtuali chiaramente. Nuzzo è uno dei migliori, più prestigiosi cuochi del Salento ed è la prima volta di tutte queste tappe che faremo pesce. Infatti Nuzzo ci presenterà un menù a base di pesce, pesce del Salento, arriverà con il pescato freschissimo di questa mattina, anzi di domani mattina, domani sera sarà qui e comincerà le preparazioni. Per cui vi aspettiamo numerosi giovedì prossimo, ma soprattutto vi aspettiamo il 10 di dicembre con un altro menù del sud, la Sicilia, con Maurizio Durso e anche lui ci farà una preparazione di pesce e di pianti tipici siciliani.